Il campionato azzurro Juniors, composto da Camilla Alessio, Sofia Collinelli, Leonora Gasparini e Giorgia Catarsi, dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche, ha vinto il campionato europeo in seguimento a squadra e battendo in finale la porta formazione inglese. Le azzurre hanno coperto i 4 chilometri in 4.26.9.51, rifilando all'incirca ben 9 secondi di distacco alle forti avversarie. Una grande prova che porta la seconda medaglia d'oro dopo la prova d'eliminazione che ha visto trionfare la bravissima Letizia Fatelloste, che si aggiungono all'argento conquistato dalla giovane Vittoria Guazzini al suo primo anno nelle Under 23 nell'inseguimento individuale. Come sempre, grande Italia, grande ciclismo femminile e grande CT Salvordi che riesce sempre a preparare le nostre ragazze, a dare il meglio e portare nella bacheca azzurra del ciclismo tante importanti medaglie. Come sempre, grande Italia, grande Italia, c'è bene qua! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.